Ho le cose più belle e curiose, non ho nulla da desiderar A parte una ricrescita dei capelli un po' più bassa Nanananana Ciao i bis e benvenuti sul mio canale YouTube Il mio nome è Carmi e siamo qui uniti oggi per fare qualcosa di diverso Sì, siamo sempre nelle nostre linee di pittaggio, noi abbiamo sempre bisogno di farci belli Ma oggi è un giorno speciale e ve lo dico subitissimo perché oggi è il nostro anniversario Esattamente un anno fa, il 2 di giugno del 2019, piccolo Carmi e Mewi pubblicava il suo primissimo video in italiano Ok, smetto perché parlare in terza persona fa veramente paura Ma volevo assolutamente festeggiare con voi perché alla fine chi più di voi si merita il festeggiamento insieme a me? Nessuno Quindi spero voi siete pronti La mia idea di oggi è di ricreare il look che avevo fatto lo stesso giorno Cioè quello che ho pubblicato il 2 di giugno Ma la cosa che ancora mi piace di più perché a me piace Io credo nel karma, credo nella positività, credo nelle stelle Perché oggi che è il giorno che filmo è il venerdì 29 maggio E il 29 maggio è stato proprio il giorno in cui stavo filmando quel video Quindi è una cosa veramente molto inception perché filmo lo stesso giorno e edito lo stesso giorno e pubblico lo stesso giorno ma di un anno a parte Ci siamo capiti? Ci siamo capiti! Quindi spero tantissimo voi siete pronti Ho come naturalmente il caffè che mi segue sempre e comunque E diciamo che è arrivato il momento di ricreare un look e di parlare insieme a come è stato quest'anno, come mi ha cambiato Ho fatto anche una piccola top 5 dei miei video preferiti che ho pubblicato quest'anno con voi Quindi se vi va, raccattate il vostro caffè, raccattate i vostri pennelli e pittiamoci insieme Come potete vedere per iniziare proprio in stile di ricreare il look che avevo fatto Non ho ancora messo le unghie perché infatti in quel tutorial le avevo messe alla fine E mi toglierò la maglietta perché secondo me la cosa più top di tutte guante è assolutamente fare una vera e propria ricreazione Ogni tanto vedrete anche le zizze qua quindi è proprio lo stesso identico video quindi inception allo stato puro E iniziamo subito con i nostri occhietti Ho già messo il mio primer che era il soft ochre In quel video ho messo un lip balm che però era uno di quelli un po' tingling che ti fa le labbra gigantesche L'ho finito e non l'ho più ricomprato quindi oggi andrò a mettere questo qui che è di Elf Il calm balm solo per dare un po' di idratazione alle mie labbra E partiamo subitissimo con i nostri occhietti E mentre passiamo ai nostri occhietti vi voglio parlare un attimo di come è andato il mio anno Come è stato il primo anno di Beautube Italia Make Magic naturalmente è qui con noi E vado con Flames Le prendo giusto un pochettino e inizio qua nella crease A fare il nostro classico Voi già lo sapete, già l'avete visto quel video Com'è stato il primo anno? Pazzo Il primo anno è stato la cosa più strana, la cosa più inaspettata Credetemi quando ho fatto quel video non ero tanto sicuro Più che altro perché ho sempre avuto paura di espormi più come me stesso nella mia lingua Più come me stesso nel mio paese E quindi praticamente mi faceva un pochettino paura Perché quando sono venuto qua in Inghilterra, come vi avevo spiegato Non mi conosceva nessuno, nessuno sapeva chi ero Non come personaggio pubblico, che non sono un personaggio pubblico Ma soprattutto come persona Quindi qualsiasi cosa che io ho mostrato In questi dieci anni che adesso sono a Londra È come la gente mi ha sempre percepito Mentre in Italia Essendo che comunque cresciuto da bambino E comunque andando a scuola e fare tutte le cose Diventare un beauty guru Che non lo sono, ma vabbè fa ridere È sempre diverso Perché ho sempre pensato a che cosa potessero pensare gli altri E secondo me è stata la cosa che mi ha fermato di più in assoluto A accendere una telecamera e a iniziare YouTube Iniziare il mio percorso Perché vi dico, già da quando ero in Italia Io adoravo YouTube Mi ricordo tantissimo che i primissimi YouTuber che seguivo Era Clio Makeup, proprio agli esordi Perché naturalmente lei, essendo anche lei del Veneto Mi ricordo che mi sentivo ancora più unito Perché crescendo poi in Veneto ci sentiva l'accento Guglielmo Schill Guglielmo Schill Mi chiedo come dirlo Gu Schilla Schilma Guglielmo Oh, non ce la faccio Guglielmo Schilla Ce l'ho fatta finalmente Will Wush Tutti quanti conoscevano Will Wush Credo sia stato praticamente il primo E forse anche uno degli unici ragazzi che seguivo Che comunque si divertiva con una parrucca e del make-up ogni tanto E mi ricordo ancora quando faceva i video con i suoi amici che c'era cane secco E facevano tutti gli schi Praticamente faceva morire da ridere E mi ricordo tantissimo che pensavo Wow, sai che figata poter fare una cosa del genere E uscire dalla comfort zone Però alla fine non sono mai riuscito a farlo Ho sempre avuto questa idea di Chissà cosa la gente può pensare Chissà poi alla fine chi lo vede E non lo so Secondo me è stata più che altro una protezione Anche nei confronti della mia famiglia Perché sapevo già che il make-up era la cosa che mi interessava di più Sapevo che volevo essere molto trasparente come sempre E parlare di quello che volevo E la cosa che mi ha bloccato secondo me è stato il fatto che comunque Avevo paura che la gente subito mi associasse alla mia famiglia E poi andassero a parlare e a dire alla mia famiglia Cosa sta facendo vostro figlio su YouTube Questo e questo, questo e questo Poi ricordiamoci che era il 2005, 2006, 2007 Erano completamente anni diversi La beauty community, uno, non credo esisteva Nello stesso modo in cui esiste adesso Ma soprattutto ragazzi che si truccavano erano veramente pochi Io mi ricordo Gli unici ragazzi che seguivo tantissimo Erano le drag queen Che mi ricordo Silicon Drop Che secondo me è una delle make-up artists Uno dei make-up artists più bravi Che vi giuro io adoravo E che ultimamente non sto vedendo più da qualche anno E mi ricordo che da piccolo stalker So che si era anche trasferito lui a Londra E quindi mi ricordo che era talmente tanto figo Che lui era a Londra quando io era a Londra Ma non ci siamo mai visti E lui non sa nemmeno chi sono Quindi va benissimo Mi ricordo che seguivo anche Shiva Queen Che era una delle drag queen Anche lei di Roma Cioè mi ricordo tantissimo Come era Cioè non lo so YouTube era completamente diverso Però mi ispirava talmente tanto E avevo sempre voglia di farne parte Che ci ho impiegato parecchio A smettere di farmi pare mentali E secondo me è comunque aiutato il fatto Che facendo YouTube in inglese Come vi ho detto Non avevo questo filtro di dire Non posso dire certe cose Ma sono sempre stato molto libero E quindi quest'anno è stato un anno Molto molto pazzo Uno assolutamente credo Nella top 5 Devo assolutamente aggiungere Il video che abbiamo fatto Il primissimo video insieme Che ci siamo truccati per la prima volta Ero super nervosissimo L'ho controllato l'altro giorno Per pescare un'altra volta Gli stessi prodotti O almeno i più possibili E in quel video Uno Non guardo quasi mai la telecamera Perché sono nervosissimo E due Ripeto continuamente Ehm 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 Mi fa assolutamente vorrei da ridere Come Il volersi bene Il volersi Uniti Tra noi Mi ha comunque fatto Aiutare la mia confidence Ha veramente Buildato la mia confidence Infatti a questo punto Io Non parlo bene Né inglese Né italiano E viva me Un altro video che secondo me Molti di voi Eh Hanno visto È stato quello che ho fatto con Papone Papone è praticamente L'uomo della mia vita È meraviglioso Come l'avete visto in telecamera È come in real life È la persona più semplice Più buona Ehm Ehm Non lo so È stato sempre molto facile Avere un dialogo aperto con lui Per quanto io da bambino Non fossi molto estroverso Ma più che altro introverso Ho sempre tenuto tanti dei miei problemi O tante delle mie cose Tra di me Ma questa è una cosa che comunque Ehm È un problema mio Ci devo lavorare io A esprimermi con gli altri Trovo veramente difficile Certe volte esprimere le mie emozioni Ehm Più Più intense Con le persone Più che altro perché ho sempre questa Paura di Ehm Annoiare Ho sempre questa paura di Ehm Non Non intrattenere Ma soprattutto Di Ehm Non lo so Di non avere qualcosa da dire Ecco Lo so che sembra molto molto strano Pensando che comunque Ho controllato io In un anno di youtube Qui con voi Abbiamo fatto 82 video Cioè questo credo sia L'ottantatreesimo Ehm Quindi Sicuramente io Zitto non lo sto mai Però Ho sempre veramente Trovato difficoltà A Ehm Aprirmi E a dire comunque Tante Tante delle mie cose Tanti dei miei segreti Diciamo Però mi ricordo Quando avevo detto a Papone Che volevo filmare un video con lui Ehm La primissima cosa che mi ha detto Mi ha detto Sì Quando Facciamolo Cioè non è stato Non è stato assolutamente difficile Convincerlo Ma anzi Era veramente contento E non era contento Perché Dovevo filmare un video Perché dovevo essere esposto al pubblico Ma era veramente contento Di Di aiutarmi Di Di creare qualcosa insieme Ecco E Veramente L'ho Non lo so L'ho percepito subito E mi ricordo che quando ne parlavamo Eravamo In vacanza in Croazia Ehm Io con i miei Che era praticamente Un paio di settimane prima Che poi alla fine abbiamo filmato quel video E Ehm Non lo so È stato veramente stupendo E Filmarlo ed editarlo Fino ad oggi È uno dei miei video preferiti Non per il make up Perché Il make up era Molto questionable Ma Per Per il senso Per Per come È stato Anche percepito da voi Perché tantissimi di voi mi avete scritto Dicendo Come sono fortunato Ad avere un padre del genere O essere stato accettato E È vero Non c'è niente che posso negare Forse è stata una delle fortune più grandi della mia vita Da bambino Che comunque nel mio nucleo familiare Sono sempre stato accettato Sono sempre stato amato per quello che ero Non ho mai dovuto fingere E Sapete quando ci sono E Come out of the closet E dire che Fare il coming out E cose del genere Il mio coming out è stata la cosa forse più semplice del mondo Perché è stato praticamente Un dialogo Tra me e mio padre Tra me e mia madre Tra me e mia sorella È stata praticamente la cosa più semplice Ed è stata proprio Volevo dirti che Mi sto frequentando con una persona E questa persona è Tizio Caio Quindi c'è stata proprio una cosa Molto molto easy Anche per il resto di tutta la mia famiglia Mi sono sempre presentato con il mio compagno All'epoca E l'hanno sempre accolto a braccia aperte Non hanno mai chiesto perché Per come Non lo so È stato forse una delle cose più facili E più belle Che spero di augurare a tutte le persone Che devono fare il coming out Che comunque hanno qualcosa da dire Nella propria famiglia Di sentirsi sempre e comunque liberi Di esprimersi Perché alla fine Il bene va oltre Qualsiasi preferenza Che sia Preferenza tra Con chi vuoi passare la vita O che cosa ti piace mangiare Perché secondo me È praticamente la stessa cosa Indifferentemente da me Da chi sono O con chi sono Sono sempre carni Quindi Andiamo a spiaccicarci Ancora un pochettino Di questo colore Che voi sapete È uno dei nostri preferiti E vado a mettere un pochettino Di mascara e ciglia finte Non ho le stesse Ma ho le 170 Mentre nel video mi ricordo Ho visto Ho usato le 177 Ma Non credo di averle più Quindi Metto un po' E sorseggio Perché nel video Ho sorseggiato parecchio Quindi aspettatevi più sorseggi Il prossimo video Che secondo me Deve far parte Della nostra top 5 È uno dei più recenti Ed è quello che ho fatto Con mia sorella Seguendo i suoi audio Per truccarmi In napoletano È stato un piscio È stato non solo divertente Da fare quel giorno Ma da editarlo Da vederlo insieme a voi È praticamente stato Tutto di più E mi ricordo che lo stavo Guardando Mentre lo guardavate anche voi Quindi era quasi un live Insieme Mentre rispondevo ai vostri commenti E credetemi Ho riso E ancora oggi Quando lo vedo Rido Cioè veramente Mi fa morire Quel video E mi ricordo ancora Che forse la sua frase Più famosa È stata Bo E non lo so È stato È stato uno di quei video Che era più unico Che raro Perché vi giuro Che ci sono cose Che puoi programmare In un video Puoi capire più o meno Come vuoi fare la struttura Come vuoi creare il make up Dove vuoi fare delle pause Cioè puoi creare delle cose Ma la chemistry E soprattutto La parte comica Secondo me è una cosa che Può nascere Come può non mai arrivare E secondo me quel video Ha mostrato che mia sorella È pazza tanto Quanto sono pazzo io Passo con un pochettino Di fondotinta Il primer È quello di Revolution Esattamente lo stesso Infatti Come avete visto È quasi finito Ma Vi lascio tutto giù In caso se mi dimentico Di dirvi che cosa sto utilizzando Devo andare a mischiare Tutte e due le tonalità Perché una È troppo chiara L'altra È un pochino più scura Quindi mi sa che faccio Un po' Un mischio mischio Quindi Ne vado a prendere Un pochettino Facciamo una e due qui Questo qua è Quella chiara Quindi ne vado a mettere Un po' in giro Faccio un po' di Stipling E poi facciamo anche Quello un pochettino più scuro Infatti come avete vedere L'ho lasciato un pochettino All'esterno E adesso ci divertiamo A miscelarli Tutte e due Insieme Prossimo video Nella mia top 5 Sicuramente è stato Uno che Non mi aspettavo di fare Perché è stato abbastanza Non lo so Una cosa organica Da creare Ed è stato Quello che ho fatto Con le mie bestie Martina e Gaia A dicembre Quando eravamo A Bolzano Ed è stato Praticamente Una giornata insieme Il giorno in cui Abbiamo fatto Un piccolo photoshoot In montagna E credetemi Forse una delle più belle vacanze Che ho fatto Quest'anno passato E nel 2019 Ho viaggiato parecchio Devo dire Sono stato molto Molto fortunato Perché avevo programmato Un bel po' di viaggi Sono stato in un sacco di città In tantissimi paesi E è stato veramente Stupendo Ma Secondo me La cosa importante Ed è più o meno Una cosa che secondo me Avete visto Su che video Sto scegliendo I video più belli Secondo me Sono quelli che Non solo condividiamo insieme Ma sono quelli Che ho condiviso Con altre persone Perché Non c'è niente di bello Che Condividere la tua felicità Con chi ti vuole bene Con chi ti ama Con chi ti rispetta Per quello che sei E non vuole cambiarti E questa è una cosa Che voglio assolutamente Stressarvi Non solo se volete Far parte della community Se volete fare video Ma nella vita Dovete assolutamente Circondarvi Delle persone Che vi vogliono bene Per quello che siete E non per quelle Che vogliono farvi diventare Qualcos'altro Non c'è assolutamente Niente di male Se le persone Accanto a voi Vogliono spronarvi E vogliono Darvi un push Per farvi diventare Qualcosa ancora di migliore Perché Questo è quello Che i miei amici I miei parenti fanno Ma Devi essere sempre tu A volere La crescita Non è una crescita Che loro ti devono imporre È una cosa Che tu vuoi E ci sono loro Che ti sostengono E secondo me Questa è la cosa Più importante E Credetemi Ne ho fatti un bel po' Di video Con Guy E con Martina Quando anche sono venute Qui a trovarmi Abbiamo passato Una settimana Stupenda E credetemi Quanto mi manca Quella settimana Ed è stato praticamente Due o tre settimane Prima dell'inizio quarantena E vi giuro Che è stata Una settimana Stupenda E sono stato Veramente molto contento Che almeno Prima della quarantena Questo raggio Gigantesco Di sole Chiamato Martina E Gaia Era qui In casa con me Perché In questo momento Credetemi Sarebbe molto bello Averle qui Ma molto Molto bello Siamo arrivati adesso Beavis A un pochettino Di contouring Che quello Fa sempre Sempre bene Classica palette Che credo sia sicuramente Quella che avevo portato Con me Perché è quella Che porto di solito Sempre in tutti i miei viaggi E poi ho utilizzato Un pochettino Della Make Magic Per fare un po' Di highlighting E infatti mi ricordo Che era andato prima Con opulence Per aggiungerne Un pochettino Come gold Highlight Qui Sulle eye point Of my cheeks In maniera super soft Un po' Bridge the nose Cupid's bow E poi ho preso Giusto un pochettino Di flash me Per aggiungercelo sopra Perché Trovo che questo combo Comunque sia quello che Fa un bam Esplode completamente E siamo finalmente arrivati Soprattutto A qual è l'ultimo video O meglio Qual è Uno dei top 5 Il quinto dei top 5 E Credo sicuramente Che uno dei miei preferiti Sia stato quello Che ho fatto Ancora una volta Molto recentemente Per la soffresa Di compleanno di Dan Mi è stato un video Che mi è piaciuto tantissimo Da fare Perché Aveva un purpose Aveva una Una motivazione Erano praticamente La settimana e passa Che ho pensato Ho detto Voglio fare una sorpresa A Dan Perché sì Siamo in quarantena Sì siamo chiusi a casa Non possiamo Anderci con i suoi amici Non può festeggiare Però se lo merita Perché credetemi È sempre al mio fianco Ed è sempre una persona Che mi aiuta A fare tantissime cose Behind the scene Quello che è dietro Continua a dirmi sempre Vai Fai Non ti preoccupare Mi ricordo tantissime volte Quando Devo per esempio Voglio fare video Voglio chiacchierare con voi Prendo anche un pochettino Lo metto Qui Sul Nostro Arco E poi anche un po' Nell'inner corner Ci sono tantissime volte Che dico Dan Guarda ho avuto un'idea Voglio fare questo video Che dici se Lo faccio E tantissime volte Lui mi dice Vai non ti preoccupare Usciamo più tardi O Cucino io Cose del genere Oppure gli piace Pensare a idee Che possiamo fare O insieme O Idee che posso fare io Mi dice Ma che ne pensi Se fai un video del genere O fai una cosa così Quindi È praticamente proprio Il supporto morale E fisico Di cui veramente Io ne ho bisogno Perché è una cosa Spettacolare Avere qualcuno Che veramente È unito E quindi secondo me Questi sono i miei top 5 I miei top 5 Sono i video Che abbiamo creato insieme Non solo perché Volevamo truccarci Che è importante Sentirci bene Con noi stessi Ma sono quelli Che hanno Un motivo dietro Sono quelli che Secondo me Hanno una piccola lezione Non solo per chi guarda Ma per chi come me Li crea Ricordarmi Di fare video del genere È una cosa Che voglio assolutamente Portare con me Anche in questo anno Quindi Vado velocissimamente A mettermi il gloss Vado a stirarmi i capelli Perché quel giorno Avevo tutti i capelli stirati Ero proprio Non mi ricordo nemmeno Come ho fatto E poi che succede? E poi succede Che mi metto anche il vestito Cioè avevo un top Eh Niente vestito quel giorno E vediamo il final look Quindi Andiamo a mettere Il gloss E poi Ci spiaccichiamo I nostri capelli Ed eccoci qua Bibis Look Completamente Completo Abbiamo stirato i capelli Ho anche messo Esattamente Le stesse denti Che unghie Che avevo un anno fa E queste qui Ve le dico subito Sono di Ardell The Nail Addict E mi ricordo Che le avevo prese Perché erano praticamente Uguali al colore Del packaging Della Make Magic E voi sapete io Matchi matchi Con i miei look Sempre le unghie uguali E niente Il top è di Primark Ma mi sa che Non ci sarà più Perché è vecchiarello Come me E quindi niente Grazie tantissimo Per aver fatto compagnia Oggi Lo so che è stato un video Leggermente diverso dal solito Ma vi giuro Oggi L'unica cosa che volevo Erano quattro chiacchiere E un caffè E credetemi Secondo me Ce l'abbiamo fatta Io vi ringrazio tantissimo Per questo meraviglioso anno Che veramente mi ha cambiato tantissimo la vita Siamo cresciuti In una maniera spropositata E secondo me E una cosa che veramente voglio Che voi proprio prendiate Di questo video È che il successo Non è derivato dai numeri Il successo Non deriva dai soldi Che abbiamo in banca Il successo deriva Da quelle giornate Che veramente Ci cambiano la vita E una volta che Le ricordiamo Nel nostro passato Ci fanno venire voglia Di riviverle Per me quella È una vita piena di successi Quella che poi pensi Dici Se tornassi indietro Sarei veramente molto felice Quello per me È il proprio successo Della vita Quindi Grazie come sempre Mi raccomando Vi aspetto giù nei commenti Fatemi sapere Qual è stato il vostro video Preferito in assoluto Del 2019 Slash un pochettino Del 2020 Insieme O anche qual è stato Il primissimo Che avete visto di me Io vi ringrazio Davvero davvero tanto Ancora una volta E come dico sempre Always remember Like if you like Hate if you hate And until next time You're welcome E io vado a scopanarmi Un altro caffè E l'ultima domanda che c'ho Ma secondo voi In un anno Quanti caffè bevo io? Puzza Basta niente E' meglio che non ci pensiamo proprio E' meglio che non ci pensiamo proprio Ciao a tutti Grazie.